è entrata nella storia per essere stata la prima voce femminile del calcio italiano a commentare una finale della nazionale di calcio maschile come calciatrice in serie a conta 316 presenze e 70 gol stiamo parlando di katia serra ciao giorgia ciao katia benvenuta grazie grazie a voi per l'invito come stai sto benissimo intanto perché mi sento a mio agio le poltrone sono comodissime e poi hai appena ricordato un momento magico quindi è chiaro che mi è spuntato immediatamente il sorriso vorrei partire proprio da quel momento magico dell'11 luglio dell'estate scorsa una gioia per tutta l'italia e non solo ci racconti dell'emozione di quel momento quando hai saputo che saresti stata tu a commentare quella che poi è diventata un'impresa storica come ti sei preparata sappiamo tutti che abbiamo sostituito i colleghi che ahimè sono state vittime del del covid quindi già nel tardo pomeriggio del venerdì il direttore di riceport mi aveva telefonato dicendo che forse si creava l'opportunità di dover partire di andare in inghilterra a causa appunto della positività di rimedio e di conseguenza anche di gennaro in quanto contatto stretto non poteva essere presente e naturalmente nel mio ruolo io sostituivo di gennaro pertanto mi aveva detto di tenere il telefono acceso di stare repribile anche tutta la notte perché non si sapeva che ora avrebbero comunque preso la decisione finale perché avevano fatto altri tamponi per vedere se la prima positività venisse confermata o meno quella sera ho fatto la valigia e poi mi sono messa a studiare sulla sulla partita sono andata a letto tardissimo perché poi c'è stato da espletare anche tutta la parte burocratica alle 7 ero già sveglia perché è normale dai un po di adrenalina di fronte a una prospettiva così emozionante a un certo punto praticamente sono al telefono col mio compagno perché era al lavoro e nel frattempo scrivevo in chat con mio fratello e arriva il messaggino del direttore che dice parti è ufficiale parti organizzati che devi andare e niente in quel momento ho urlato dalla felicità perché davvero era qualcosa che che sognavo da una vita e quando è arrivata per me è stata proprio una felicità incredibile diventa anche difficile raccontare perché forse potrei dimenticare anche tanti particolari visto tutto quello che mi è arrivato di bello in quel momento mi dai l'impressione di essere una persona molto sicura di se stessa come si acquista questa consapevolezza della propria capacità guarda non lo so io non so se sono veramente così però di sicuro posso dirti che faccio qualcosa che a mi viene naturale che mi piace tantissimo che per gioco facevo anche da bimba per cui alla fine per me stare nel mondo del calcio a prescindere dal ruolo è stato un inseguimento è stato un percorso molto difficile in cui sono stati anche tanti gli ostacoli affrontati però è sempre stato quello che io volevo perché per me alzarmi la mattina e fare un mestiere o comunque stare in un ambito che è quello che che mi diverte non non ha nessun tipo di di paragone con altre con altre scelte quindi forse la sicurezza nasce dal fatto che fondamentalmente alla fine è un gioco per quanto sia un lavoro e al massimo che mi possa succedere ricevere delle critiche ma queste queste vanno vanno messe in conto e ne ho ricevute tante insomma per cui ci sono arrivata preparata anche a questo a tal proposito hai ammesso di aver ricevuto delle critiche sessiste in quell'occasione ti chiedo se ci hai sofferto e se ti era capitato anche in passato in quel momento non ci ho sofferto perché in passato mi era già capitato tante volte io quando ho cominciato a commentare il calcio maschile sulle prime partite di Lega Pro lì di critiche ne ho ricevute tantissime ho ricevuto anche degli impedimenti perché magari arrivavo allo stadio e chiedevo dov'è la cabina Rai per la telecronaca puntualmente mi mandavano in tribuna stampa dove c'erano i giornalisti della carta stampata e mi allontanavo e sentivo dire ma perché mandano le donne che non capiscono neanche il motivo per cui vengono allo stadio a lavorare e questo mi è successo un sacco di volte e io ovviamente venivo dal calcio giocato dove anche lì insomma le difficoltà sono state tante per cui questo tipo di trattamento ricevuto onestamente non mi spaventava l'avevo messo in conto ero con le spalle larghe pronta preparata questo significa che quando è successo ed è successo diverse volte ho detto dai è normale non sanno chi sono non conoscono il mio passato in campo quindi dai Katia stai serena non lasciarti deviare da queste difficoltà e appunto da quando hanno iniziato a esplodere i social puoi immaginare insomma che tante volte è capitato insomma di ricevere anche critiche brutte le solite che si dicono ad una donna però anche lì all'inizio inizio mi mettevo molto in discussione riguardavo tutte le partite chiedevo a tutti perché magari potevo pensare di non essere adeguata e di non essere all'altezza poi a forza di avere delle certezze che mi trasmettevano gli altri quindi coloro che mi devono giudicare per darmi l'opportunità di lavoro e dopo lì allora a quel punto ho capito che è chiaro quando ti esponi molto devi mettere in conto che puoi piacere tanto ma puoi anche non avere tante critiche quindi fa parte dell'effetto legato alla visibilità Correggimi se sbaglio in una passata intervista hai dichiarato che da piccola attiravi un po' l'antipatia delle compagne di scuola, di classe perché stavi molto simpatica ai maschi invece giocavi a calcio con loro sei mai stata vittima di episodi di bullismo? sei mai stata emarginata in qualche modo? quando si giocava a ricreazione o nel doposcuola ero sempre la prima scelta perché fino a quando non subentra la differenza fisica tante di noi erano più brave dei maschietti cioè è normale, è una cosa naturale quindi stavo con loro sempre perché mi cercavano sempre mi cercavano perché si parlava appunto della domenica calcistica dei risultati, della serie A maschile eccetera quindi sostanzialmente le mie compagne che lo sappiamo tutti, le donne maturano prima quindi già vedevano nei compagni di classe magari anche un po' un rapporto uomo-donna loro invece nei miei confronti vedevano solo un rapporto di gioco e consideravano me non loro e ho passato mesi dove in classe le compagne proprio facevano fatica a salutarmi a parlarmi e io non capivo perché a me veniva talmente tutto spontaneo stare con i maschi e divertirmi insieme a loro con il calcio che ci ho messo tanto tempo a capirlo ma non l'ho realizzato lì l'ho realizzato poi in un'età successiva dove la maturità mi ha fatto capire delle cose oggi con queste mie compagne ho un rapporto stupendo una volta o due all'anno ci ritroviamo ancora in cene di classe per cui come vedi fa parte di un percorso dove probabilmente in quegli anni mancavano anche forse dei riferimenti che potessero in un qualche modo avvicinare queste distanze apriamo il capitolo dedicato allo sport che ti ha cambiato la vita il calcio non tutti magari sanno che tu giocavi a basket contemporaneamente e hai deciso di intraprendere la strada del pallone in seguito a un infortunio al ginocchio come mai? può essere un po' folle infatti io sono sempre stata una ragazzina ipercinetica che non stava fermo un secondo e niente alla fine in prima e seconda superiore continuavo a giocare a calcio e a basket dentro di me il calcio comunque ha sempre avuto una priorità rispetto a tutti gli altri sport che ho praticato e quando mi sono rotta il ginocchio a 15 anni un'operazione complessa durata 5 ore con i medici che dicevano che non potevo più fare sport insomma quindi un trauma bello importante beh per me è stata una sfida io ho vissuto tutta la mia vita come una sfida quindi tu mi dici che io non torno più a giocare per colpa del ginocchio non esiste non esiste io devo essere più forte del destino più forte di quello che mi stai negando e quindi credo insomma che ho avuto questo carattere senza rendermene conto cioè non lo facevo perché qualcosa mi spingeva ma era una forza mia interiore però alla fine davvero anche per continuare il percorso scolastico a cui io ho sempre dato molta importanza e secondo me è fondamentale dovevo fare una scelta e alla fine per orgoglio dovevo ritornare lì dove il sogno si era interrotto tu hai avuto una carriera lunga 24 anni costellata purtroppo però da infortuni non hai mai pensato di mollare di dire basta troppa la sofferenza troppo il sacrificio guarda davvero non mi è mai sfiorato quel pensiero io appena succedevo dicevo bene allora domani vado in ospedale per operarmi cioè volevo subito rimettermi in sesto per ricominciare a divertirmi perché per me era un grande divertimento forse era un po' di follia un po' di anche voglia di cambiare le cose perché appunto tanti ti dicevano ma perché lo fai ma smetti trova una strada più sicura anche in termini di stabilità economica e di prospettiva lavorativa però niente era un fuoco che ho sempre avuto e che era quello che mi ha sempre spinto e le difficoltà mi hanno forse rallentata ma non certo fermata e che consiglio ti sentiresti di dare a quelle persone che subiscono con un brutto infortunio e hanno paura di non tornare più come prima in primis gli direi la scienza è andata avanti è talmente tanto migliorata che oggi è una sciocchezza rispetto ai miei tempi e ai tempi delle mie colleghe dove per un menisco si smetteva anche di fare sport quindi primo sentiti fortunata perché oggi davvero ci sono strumenti e mezzi e conoscenza che ti rimetteranno in sesto e che non te ne rendi neanche conto della fortuna che hai oggi secondo dico ma se ti piace veramente quello che stai facendo perché ci deve essere un motivo per smettere no devi andare dritta per la tua strada e quando ci sono difficoltà beh la vita è piena di difficoltà ma non ha importanza quante volte cadi ma come reagisci di fronte all'avversità molto bella questa filosofia tu dopo 15 anni di serie A decidi di scendere due categorie più in basso al Cervia perché dichiari almeno l'ambiente era buono quanto conta sentirsi a proprio agio in un ambiente di lavoro ma credo che sia che sia fondamentale e io sì sono sempre stata magari un po' un po' avanti rispetto alle persone con cui condividevo la stessa passione ma avanti intesa dove mi godevo poco il presente ed ero sempre proiettata nel futuro quindi non mi bastava mai no quello che che trovavo ed ero sempre alla ricerca di qualcosa di diverso di nuovo probabilmente era anche eccessivo col seno di poi con la maturità di oggi sì a volte io non venivo capita e compresa ma mi rendo anche conto che era anche difficile riuscirci per questo mio modo di essere sicuramente sentirsi a casa fa la differenza per poter rendere perché non siamo macchine e anche se io sono sempre stata determinata e quindi ho sempre cercato di raggiungere gli obiettivi a prescindere dal contesto è naturale che quando sei più rilassata è più facile farlo più facile riuscirci ma anche più bello condividerlo poi con chi ti sta attorno hai anche dimostrato nel tuo passato da calciatrice che i soldi nella vita non sono tutto tu hai rinunciato a una proposta economica detta tua indecente ti sei mai pentita rifaresti quella scelta e perché non sono tutto i soldi guarda la rifarei subito perché se tu vuoi da un presidente che ti offre una barca di soldi e gli dici bene me ne dai un po' meno ma quelle che risparmi con me le utilizzi per comprare altri due giocatrici forti che allora sì che possiamo raggiungere degli obiettivi questo è uno sport di gruppo non è uno sport singolo se tu punti tutto su di me per quanto io ci posso mettere il mille per mille di me stessa non posso arrivare all'obiettivo perché stiamo parlando di uno sport di gruppo e se quindi tu hai di fronte un presidente che non capisce questo beh vuol dire che non ci sono neanche quelle basi minime per costruire un progetto vincente per cui io feci quel tipo di rinuncia proprio perché non ci vedevo quelle basi minime per costruire un progetto che poi alla fine puoi anche perdere però intanto provavi a vincere ho sempre anteposto più la parte emotiva che la parte pragmatica nelle mie scelte Katia molte donne ogni giorno si sentono ostacolate nel raggiungimento dei propri sogni o dei propri obiettivi come fare a trovare la forza di andare avanti di non arrendersi conciliando vita privata e vita professionale che a volte è molto complicato complicatissimo io stessa ti posso dire che a 27-28 anni dopo una storia importante con il mio compagno di allora che stava sfociando in una convivenza tra lavoravo giocavo e c'era questo obiettivo alla fine ho fatto saltare tutto in termini personali per continuare a inseguire lavoro e calcio lo rifaresti? sì perché comunque era quello che io volevo in quel momento e se oggi sono dove sono è sicuramente anche grazie a quella scelta anche coltivare un rapporto quando tutto il giorno lavori tutte le sere ti alleni e tutti i weekend sei in giro per giocare è complicatissimo manca proprio lo spazio lo spazio per costruirsi delle relazioni per cui al tempo ci hai sofferto? tantissimo tantissimo e te lo dico di petto perché perché sì mi sarebbe piaciuto magari avere una vita più più comune e non magari avere tanti elogi perché appunto sono andata un po' contro tendenza e ho fatto tante cose che personalmente sono gratificanti oggi con il mio compagno è un momento in cui ovviamente anche lo spazio per la mia vita familiare ha una grande importanza perché credo insomma che a mezza età di secolo sia anche maturato il tempo per avere qualcosa di mio tu hai sempre tenuto la tua vita privata lontana dai riflettori sì perché sinceramente non non capisco perché le persone si debbano interessare del privato ma io lo penso in un ufficio come in altri ambiti di lavoro poi il mio compagno non gli piace il calcio è restio alla visibilità non ha i social quindi è proprio voglio dire totalmente diverso da me e quindi lo faccio anche per rispettare il suo modo di essere e ci tengo a dire una cosa che non so se avevi letto il giorno della finale di Wembley a me ha amareggiato perché la notizia più googolata e non sto scherzando era alla ricerca della compagna di Katia Serra perché da ex calciatrice non pubblica niente non si sa niente del suo privato è naturale che è una ragazza lesbica e che sta con una compagna quindi alla ricerca chi sarà mai e ho detto siamo nel 2021 e ancora queste etichette cioè io ti giuro sono rimasta delusissima da questo e non mi ha minimamente creato delle problematiche mi ha solo amareggiato ma non tanto per me ma per tutte le donne che fanno magari scelte che vengono considerate meno convenzionali e quindi posso immaginare loro come si possano sentire ogni volta che si parla di questo pertanto io ho tantissime amiche capito etero ma il punto è che non ci dovrebbero essere amiche lesbiche e non c'è scelte convenzionali o anticonvenzionali sono scelte vanno rispettate basta concludendo questa bella chiacchierata tu sei anche professoressa dell'università come interpreti il tuo ruolo ma guarda io mi sento nella vita una divulgatrice del calcio femminile perché ho fatto tantissimi anni la sindacalista ho smesso da poco e ho costruito insieme ad altre persone un percorso che poi è quello che oggi raccolgono le giocatrici che stanno giocando e ho allenato ho fatto la dirigente ho fatto la responsabile dei settori giovanili ho fatto l'istruttrice di scuola calcio ho allenato gli uomini ho fatto veramente di tutto e è sempre qualcosa magari che anticipava i tempi oggi all'università sono quattro anni che ho questa cattedra l'unico esempio di insegnamento universitario del calcio femminile anche lì non è stato semplice soprattutto perché non c'era nessun modello di riferimento pertanto ho dovuto costruire tutto sulle poche nozioni che c'erano tutta la ricerca è durata mesi è stato molto complicato ovviamente nella ricerca c'è stata anche l'esperienza personale del vissuto che ha aiutato a trovare le fonti giuste i canali giusti e per quello che io ti dico mi sento divulgatrice perché in tutto quello che ho fatto l'ho fatto con questo spirito e anche all'università la cosa bella che mi sta capitando è che tantissimi studenti mi ringraziano per la passione che gli sto trasmettendo mi ringraziano perché gli ho aperto un mondo e tanti di loro prima non conoscevano niente e addirittura poi fanno le tesi di laurea con me proprio perché si sono appassionati sono diventati tifosi seguono e quindi questo secondo me è la vittoria è la vittoria più grande e come ben sappiamo nella prossima stagione il calcio femminile entra di diritto nel professionismo cosa ti auguri per il futuro di questo movimento Katia? beh mi auguro che il professionismo diventi non una tappa di passaggio ma una svolta storica che resterà per sempre lo auguro a tutti coloro che ci lavorano nel calcio femminile perché il professionismo riguarderà tutti non solo le calciatrici e questo significa appunto mettere il calcio al centro della propria vita ma avendo anche gli spazi per dedicarsi ad altro e quindi significa insomma ottimizzare le cose mi auguro che nel percorso di crescita e di sviluppo non si copia il modello maschile ma si facciano scelte funzionali alla valorizzazione della specificità delle donne mi auguro che si investa moltissimo a livello giovanile per accogliere le tante bambine che oggi vogliono giocare e che non in tutti i territori però trovano la risposta per riuscirci e infine cosa mi auguro mi auguro che un giorno appunto non parleremo più di calcio femminile e calcio maschile ma che parleremo di calcio con la spontaneità che si dovrebbe avere tra tifosi e addetti ai lavori perché alla fine il calcio è uno solo lo scrivo sempre l'ho scritto anche di recente il calcio è di tutti e per tutti e per me non ho mai visto differenze e sin da bambina li ho seguiti entrambi con la stessa dedizione non bisogna aggiungere nulla grazie mille Katia grazie a te veramente tanti complimenti grazie sono un po' un vulcano era il soprannome è bello così e questo è quello che veramente sento dentro grazie grazie a te grazie a te